Il pareggio secondo me sarebbe stato il risultato più giusto, ma nella ripresa hanno lasciato troppa iniziativa agli avversari, pagandone le conseguenze. Siamo ai saluti finali. Un ringraziamento a Luca Marcheggiani, come sempre a mio fianco. Grazie, e un saluto anche da parte mia a chi ci ha seguito da casa. Grazie. 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 Grazie.